Non è un cortocircuito quando ne bruciano le sogne di una vita, non è un cortocircuito quando ne bruciano la casa, le menze e l'attività. Le cortocircuito non esistono, un menzo non piglia mai fuoco solo, una macchina non svampa sola, un formine di cielo non brucia una casa. Forse, forse è culpa del rubito nero, forse è culpa dell'accendino o forse è culpa di chi non parlano e da mafia si scantano. Le formine a cercereno non esistono, viene sempre qualcuno prima da bruciare, viene sempre qualcuno per domandare, cristiani inutili che ne vogliono ricattare, mafiosi che ne vogliono sottamettere, spaventare e rubare. E allora qualcuno sa domanda, non so come fare, è facile rispondere, questi cristiani che poi cristiani non sono sanno denunciare e in galera sanno ammannare.